Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Turbo Daily. Sulle borse sembra essere tornata calma e in questo caso vogliamo dedicarci ad un titolo in particolare che è tornato sugli scudi. Mi riferisco a Ferrari in quanto ieri abbiamo potuto assistere alla vittoria di Leclerc e al secondo posto di Sainz e questo potrebbe portare interesse sul titolo anche alla luce del fatto che negli ultimi anni la gestione sportiva della casa di Meranello è stata un po' sottotono rispetto a quella che è la blasonata storia della scuderia. Andiamo quindi sul titolo e vediamo come possiamo approfittare di questa situazione. Questo è l'andamento, Ferrari ha fatto molto molto bene negli ultimi anni ed è arrivato a toccare quasi 250 euro per azione, poi c'è stata una correzione forte in concomitanza con la correzione di tutte le borse sostanzialmente e i prezzi sono crollati fin sotto i 180 euro anche più in basso fino a 170. Poi c'è stata una ripartenza quindi una sorta di segnale positivo da parte appunto del titolo che è tornato ad essere comprato da parte degli investitori e ieri abbiamo visto come insomma anche la gestione sportiva potrebbe portare dei risultati ottimali da qui alla fine dell'anno. Buona sostanza la strategia è molto semplice ci posizioneremo al rialzo per cercare di andare a prendere un profitto abbastanza ampio nell'ordine appunto dell'8 per cento rispetto ai prezzi attuali. Vediamo come impostare questo tipo di strategia per il tramite dei certificati offerti da BNP Paribas. Andiamo sul sito investimenti.bnpparibas.it clicchiamo su certificati a leva, turbo e mini future e andiamo nella sezione dedicata qui potete vedere io ho già selezionato azioni Ferrari Long perché ovviamente mi voglio posizionare al rialzo sul titolo abbiamo diversi prodotti sia nella definizione con scadenza che senza scadenza io nello specifico sono andato a prendere un prodotto che avesse una leva di circa cinque volte e quindi ho scelto l'NLBNPIT12273 questo prodotto come detto mi dà una leva di 5,20 volte e non ha una scadenza al momento quota intorno ai 3,70 euro io ho messo in ordine leggermente sotto ai prezzi di mercato in modo tale da poter beneficiare di una piccola apertura magari in territorio non particolarmente positivo quindi andiamo in piattaforma e inseriamo il nostro ordine che come detto messo a 3,60 euro 275 pezzi perché sia chiaro per tutti sono circa 1.000 euro di certificati che con una leva appena superiore a 5 vuol dire indicativamente 5.000 euro di investimento. Andiamo a cliccare sul tasto buy e attendiamo appunto di vedere il nostro ordine inserito a mercato. Bene andiamo quindi a fare il recap della posizione proposta nella giornata di oggi entriamo long da 189 euro per azione lo stop loss lo andiamo a posizionare a 177 euro per azione per quanto riguarda invece il nostro target price è ambizioso sopra i 200 euro e in particolare a 205 euro per azione. Da parte di Enrico Lanati per oggi è tutto io vi saluto vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime puntate. Grazie. 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 Grazie.